Ed è tornato a casa. Prima non c'è, si cambia per lì. Questo è un modo di fallire l'eredità, l'eredità non è ripetizionata. Tutto scritto da questo, da Genesi, è nostra in realtà, niente. La gente oggi pensa molto poco. E allora questi spiagni per la fine esplodono e sarà il resto del mondo a ricondurci alla giusta misura se prima non lo facciamo. Una grande tristezza per la colezza del nostro. Il problema è che ciascuno di noi vive all'interno di un agglomerato di idee che diciamo si chiama una visione del mondo. E quindi vivere in un modo acritico all'interno di queste coperture e all'interno di queste protezioni. Questa è un'idea. Io ne ho le mani piena strafonda, mi continuare a sopportare questo sistema del cazzo. La tristezza è un successo di tutti i tempi. Tutti quanti noi abbiamo un'ombra. Del tempo che ci consuma, un'idea terribile. Dobbiamo immaginarci squarciati da frecce, fucili, una nascita. Solo amore perché amore mi ha dato, solo odio perché ha cercato di sfuggere quello che ha creato. Io prego di strillare la parola libertà. La fine è importante in tutte le cose. 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 Grazie a tutti